Sì, questo edificio da quando è stato finito costruito ha una forte esposizione, la cosa più bella è che arrivano talenti, tante persone brave che dicono voglio lavorare qua e questo è una cosa bellissima per un improduttore, che un edificio possa attraere dei talenti per il lavoro. L'edificio è frutto di un concorso a inviti, per cui è anche interessante che un committente privato voglia scegliere così, il luogo dove abitare e dove abita lui e tutte le persone che lavorano con lui, per cui il tema è proprio di fare un ambiente oggi di lavoro che è molto diverso dagli ambienti di lavoro di una volta, se una volta ci sono quegli uffici a cubicoli tipo Playtime, c'è questo film di Jacques Tati dove sono tutti chiusi dentro, oggi noi abbiamo visto come il headquarters di un'azienda è un luogo che anche diventa ospitale per le persone che vi abitano ma anche esprime il carattere dell'azienda, è come invitare qualcuno a casa propria in un certo senso e secondo noi l'edificio è molto riuscito in questa dimensione domestica che, come diceva Einer Oberauk, facilita il rapporto di tutti i giorni tra l'azienda e il suo pubblico e anche le relazioni internazionali. C'era anche un aspetto pubblico, io penso che sia stato parte del brief iniziale che ha reso il progetto straordinario perché un ufficio che di solito è una cosa molto privata, molto chiusa, invece dall'inizio c'è la volontà proprio dell'azienda e di Einer di avere uno spazio che attravesse anche gli esterni, quindi che non fosse soltanto esclusivamente dedicato a chi lavorava lì ma anche fosse un luogo di incontro, un luogo dove le persone vanno, quasi come se fosse un luogo pubblico. Visto che stasera siamo tutti qua per premiare la committenza e l'architettura che è riuscita a generare, effettivamente questo progetto possiamo dire che è stato un insieme di sinergie perfette tra quello che è un po' il dovere del committente e il dovere dell'architetto che tutto sommato deve anche seguire una visione che poi è diventata una visione globale. Grazie 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 Grazie